La prima cosa che mi ricordo è che vedi il pavimento molto vicino alla mia caccia, chiusi gli occhi e pensai, cioè, quella era veramente la fine della mia vita, pensavo di morire, fortunatamente non sono morta, però ho avuto una frattura del bacino e io una frattura di bosso e poi avevo il casco, si rubo tutto il casco e mio padre è ortopedico, è il chirurgo della mano. Il giorno dopo mi ha portato in sala operatoria con due per operarmi, fino a quel giorno non avevo mai pensato di fare un medico. Quando sono entrata in sala operatoria non avevo paura, ho sentito come se tutto il posto fosse sempre stato mio e poi è stato il giorno in cui ho deciso di fare il chirurgo, non sapevo ancora poi che abbia fatto il chirurgo classico. Il mondo della chirurgia, nel sala operatoria, per me sono un posto magico, perché sono posti dove le persone entrano per essere aggiustate in qualche modo, sia per quanto riguarda la chirurgia classica, sia per quanto riguarda l'autoria, sia per quanto riguarda la chirurgia generale. In inglese, quando io penso al mondo della chirurgia, penso quando magic happens, cioè dove succederebbe qualcosa di magico a due altri esseri umani, sono capaci di far succedere qualcosa di magico per altri esseri umani. Perché chirurgia plastica? Sempre quando ero molto piccola, diciamo, ho avuto delle influenze che la mia famiglia mi hanno portato a questa scelta. La mia sorella aveva 15-16 anni e purtroppo aveva un naso molto molto grande. Un giorno decide di, diciamo, rifare il suo naso e io vedi dentro di lei un cambiamento molto... Più piano? Sì, sì. Ok, perfetto, scusatevi. Ok, quindi dentro di lei un cambiamento psicologico molto forte dopo questo intervento. E lì capì che gli interventi di chirurgia plastica, anche di chirurgia plastica estetica, possono liberare le persone dalle loro catene psicologiche. È come se togliessero un peso alle persone e le persone possano un po' dopo tirare in cuore la loro reale personalità, da una parte. Dall'altra parte, un'altra cosa bellissima della chirurgia plastica è di creare ciò che è stato colto. E in particolar modo questa è la parte di chirurgia plastica ricostruttiva. Un'altra cosa per cui a me piace tanto questa branca della chirurgia è che è il punto di incontro tra il mondo della medicina e il mondo dell'arte. Nel tempo ho capito che per fare il chirurgo plastico serve anche un forte senso estetico per poter valutare i risultati degli interventi alla fine di ogni chirurgia. Durante il mio percorso ho capito anche che è fondamentale incontrare delle persone che io chiamo parati di luce, di mentori, che trovano una luce dentro il fluido, dentro l'allievo e lo aiutano a tirare fuori il meglio di sé. La prima persona che è stata un mentore per me è stato il mio padre, anche lui 5, e con lui sono andata per la prima volta in sanoperatoria nel 2007, però si è avvenuto in quel caso di urtomedia, una riparazione di legamento crociato che sta all'interno del ginocchio. Cosa? Tra le altre persone che mi hanno aiutato a tirare fuori il meglio di me voglio ricordare il dottor Guglielma, che è il posto dottore con la casatta a Tertina e Zulmina che sta a fianco a me, che ho avuto la fortuna di incontrare invece in Brasile durante il mio periodo di formazione in Brasile. L'intervento che a me piace di più in assoluto è la ginoclastica, e con lui ho imparato tantissimo di ginoclastica, ok, più piano, ed è stata, diciamo, la prima persona che mi ha fatto fare un intervento di ginoclastica. Avevo 27 anni, ero molto giovane, e questo per me è stato molto importante, perché nel mondo della biologia, se non trovi persone che ti insegnano da una parte e dall'altra parte ti fanno fare gli interventi, è molto difficile trovare coraggio, camminare sulle proprie gambe e continuare dopo nella propria carriera. Tra i mentori voglio ricordare anche il mio maestro di scultura, che si chiama Antonio Calotenuto e sta a Corso Coreale. Nel 2018 ho cominciato a pensare che, diciamo, gli scultori possano cambiare molto di più, anche rispetto ai miroli plastici, riguardo la simbettria del corpo, le forme, e il mio maestro conosceva perfettamente dove un'imparta anatomica dovesse essere, anche se non sapeva i nomi, e lo sapeva sicuramente molto meglio di me e anche probabilmente molto meglio di tutti i maestri di cui ho già palazzicato e ho avuto negli anni. Con lui, quindi, ho cominciato a fare lezioni di scultura e lui mi ha insegnato anche il controllo di tutte le forme e il controllo molto importante della simbettria tra destra e sinistra, a cui tutto oggi io penso, quando, diciamo, durante i miei interventi. Ricordo una frase che mi ha portato molto di Antonio, un giorno mi disse «Tutti possono dare una forma, ma poche persone sanno essere attenti ai dettagli». Io mi ripeto sempre questa cosa durante, insomma, tutti gli interventi per dare il meglio ai miei pazienti. Tra i miei mentori, voglio ricordare anche il dottore Finocchi, che sono qui oggi, il dottore Finocchi è un mio collega di Roma, anche il più grande appassionato di rinoplastica, da cui ho potuto imparare una grafica che lui stesso ha sviluppato. Durante la prima ondata della pandemia, a marzo e a fine del 2020, i prodotti plastici in libera professione non potevano lavorare, erano stati bloccati tutti i nostri interventi. Era un momento molto triste, perché avevo cominciato da poco la mia carriera, mi ho specializzato da poco, e mi sono trovata da un giorno o l'altro a non poter più lavorare preparamente. Parla con Valerio, che durante questo periodo, diciamo, di pausa, decise di organizzare la stesura del primo libro italiano riguardante la finoclastica, e mi chiese se volevo partecipare. Questo di questo ho pubblicato quest'anno, sono molto contenta di questa cosa, ma sono ancora più contenta del fatto che, grazie a lui, io abbia continuato ad avere una speranza, anche durante i giorni, diciamo, brutti, di marzo e a fine del 2020, è qualcosa di bello a cui pensare, qualcosa di bello da creare, e soprattutto qualcosa di scritto da lasciare ad altre persone. Perché quando qualcuno conosce qualcosa, se la tiene per sé, vuole con sé, se invece la scrive, la può trasmettere a migliaia di persone, e questa è una cosa molto importante. Durante la specializzazione ho deciso nel 2017 di andare a fare un periodo di formazione in Brasile. Il Brasile è un posto molto conosciuto nel mondo per quanto riguarda la gerogia classica ed estetica. Sentivo che a Napoli avevo raggiunto un momento di plato in cui non riuscivo più ad imparare qualcosa. A Platò? No, a Platò. Ok, no, Platò va bene con Platò. Ok. Allora, quindi, allora, appunto, un momento di plato in cui sentivo di non poter imparare niente di qui e avevo pochi stimoli. Decisi quindi di partire per un anno. Sono stata per 11 mesi a Rio e per un mese a Santos, che è nella regione di San Paolo. E quando penso al tuo viaggio, mi piace pensare a quel momento in Brasile come al viaggio dell'eroe, come descritto da Carl Jung. Quando qualcuno sente uno stimolo di maggiore conoscenza dentro di sé, parte e trova mille difficoltà per partire e ha io stesso ho avuto mille difficoltà per partire perché per andare lì ci vogliono migliaia di documenti per avere visti e permessi per stare in tanto tempo. Durante la mia permanenza lì ci sono stati momenti belli, ma anche in momenti brutti di grossa solitudine. Il Brasile è un paese bellissimo, è molto energetico, ma è anche veramente tanto, tanto pericoloso e quindi mi sono trovata a fruttare delle cose un po' speccati, ma l'importante è stato mantenere la calma, mantenere la concentrazione, ricordarmi perché ero lì e perché ero andata in un paese lontanissimo da casa per imparare qualcosa. E alla fine sono tornata a Napoli ancora più felice e in carica per continuare la mia cadera. Ora finisce la parte della presentazione riguardo la mia esperienza lavorativa e ora comincerò a parlare di che cos'è la tecnologia plastica. Plastica viene da plastos, greco, e significa modellare. La chirurgia plastica può essere divisa in due grandi capitoli. Da una parte la chirurgia estetica e dall'altra parte la chirurgia ricostruttiva. Ho messo qui un'immagine di alcune regole della chirurgia plastica. Secondo parè, addirittura sono regole del 1564 e poi di Gilles e Miliant che sono due famosi e importanti fili di plastici del 1950. Allora, queste riassumono in breve che cosa fa la chirurgia plastica. Allora, il secondo parè è togliere ciò che è stupendo dopo di che rimettere a posto le cose che sono state spostate, separare i tessuti che stanno insieme ma che non dovrebbero stare insieme, unire ciò che è stato separato e, diciamo, aggiustare gli effetti della natura. In seguito, i Gilles e Miliant hanno aggiunto altre regole. La regola numero uno, che è una regola che ho portato sempre anche io con me, è avere sempre un piano. Cioè, non entrare mai in sala operatoria senza sapere con il paziente precisamente che cosa deve fare. Questa è una cosa fondamentale. Avere un proprio stile chirurgico. Dopodiché, onorare sempre il ciò che è normale e far tornare il ciò che è normale e la sua norma di istruzione. Non buttare nulla di ciò che è vivo. Dopo vi spiegherò, insomma, come ripostruano e capirete. Grazie a tutti. Grazie.